Sono troppo gentile Ah vedi, già faccio Questo è più buono Buongiorno dal Giappone Buongiorno Cosa mangiamo stamattina? Budino in pallina Boh, non lo so neanche io, fatto da bocca Fruit milk pudding Sembra un palloncino Sai Il gelato tipo che aveva fatto anche Marco Qualche anno fa Comunque, dici che è un budino, una cosa Non lo so Bocca, però il nome della marca È scritto così Makiba Noye Ah ok Quindi c'ha i kanji Però è scritto bocca Ce la fai o no? Ah qui lo vedi qui È aperto qui Che cos'è questo qui? È una salsa da messeci sopra Ah All'ananas E poi questo budino Vai Sono due, uno per uno Speriamo che sia qualcosa di buono Tirare fuori tutti e due Così facciamo vedere anche Aspetta però Verrà bene Dobbiamo rompere questo Vai Vediamo che viene fuori Quaio È già fatto, si è già fatto Non è rimasto niente No, non è rimasto niente Qui, qui, qui Vuoi fare anche questo? Adesso che sei pratica? Eh ma non è facile Vai Vedi? Fatto? Qui ce n'è un pezzo Guarda mi sa Cioè il rischio di mangiare la plastica È alto comunque Questo Anche questo Vedi Mi va Questo Sembbero di no Vedi Questo l'hai fatto perché io lo volevi mangiare Vai Mettiamo la salsa Prendilo in purezza Sì vai Si sente un po' di banana Ratti, banana e Certo Un po' Frago Come? Frago Ma ti riesci a aprire questi Questi posti o no? Cioè Cioè Veramente È una roba tremenda Una bambina di otto anni l'ha aperto meglio di te Dai Ti annoia Non ho forza Non ho forza Non ho forza Dai Via Bello però Hai fatto tutto? Dai andiamo all'assaggio finalmente Quattro ore di composizione Vai Meglio così? La salsa Ma me lo lasci anche a me un po' con la salsa La mangi tutta te Sì Allora senti Mettiamo com'è Io non so La mangi tutta me Ma se non è quella La banana è predominante la banana Banana diciamo La banana è proprio un gusto Proprio potente la banana Ci dovrebbe essere scritto banana come gusto Perché c'è solo la banana Non è male però Buono Quella salsa è buona Sì Se no sta troppo di banana Sì Buono Sembra vagamente a tratti panna cotta Non male Però Per rifarmi la bocca Questo qua Ringraziamo ancora Lenny e Akane Che ce l'hanno portato Da Obsequium Bello Ghiotto Guarda hai preso Hanno questa Vineria Vicino al Ponte Vecchio A Firenze Guardate che grande Questo è Adesso hanno il cioccolato Con il cioccolato bianco nel mezzo Vai Questo è più buono Meglio Buonissimo Anche te Miva lo prendi Mangio anch'io Mamma mia Questi sono quelli grossi Quando questo è in order Il cioccolato bianco è veramente buono Miva assaggia Ti piace? Senti Com'è? Quello più ghiotto L'ho preso te Ghiottissimo La verde è proprio Meglio E' proprio spaventosamente buono Mamma mia Va bene Grazie a tutti per aver visto questo video Ci vediamo a prossimo A Giappone Ciao 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 ciao